Come annunciato nelle nostre previsioni, è arrivata la neve fuori stagione sui rilievi della Calabria, in particolar modo sulla Sila, dove dalla mattinata sono in atto nevicate a tratti anche copiose, ad iniziare dai 1300 metri di quota. Sulle vette il manto bianco ha superato i 15 cm di spessore, ma i candidi fiocchi tardo-primaverili sono arrivati fin su Camigliatello, seppur non sono attecchiti al suolo. Un evento inusuale per il mese di maggio, in questa primavera dominata dalle temperature in genere sotto le medie del periodo e dal maltempo, localmente rilevante. Nei prossimi giorni le condizioni atmosferiche dovrebbero però migliorare e le temperature tenderanno a risalire, specie nei valori diurni, ma un nuovo calo termico incompe. Infatti domenica 12 maggio è possibile il ritorno di aria ancora molto fresca.